Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove ci sono 4,5 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto, in direzione Parma. In A1, 1 km di coda per incidente tra Valdarno e Arezzo, in direzione Roma. Coda in uscita a Firenze Sud, provenendo da Bologna. Rallentamenti tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico, in direzione Bologna. In FIPILI, coda a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandici, in direzione Firenze. Coda in uscita alla Strassigna, provenendo da Firenze. Sulla statale 62 della Cisa, rallentamenti per lavori in entrambe le direzioni, tra Villa Franca e Lunigiana e Pontremoli, e tra Pontremoli e Montelungo. Per la viabilità cittadina, Firenze, fino all'8 giugno, chiusa per i lavori della tramvia, via Garfagnana, all'incrocio con via Allori. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!